Musica Accecato dalla rabbia, mi dispiace, sono le parole che il 61enne di Podenzano accusato di tentato omicidio per aver preso a martellate la ex in tribunale ha affidato al proprio avvocato, arresto convalidato, ha dal seno finito in manetta anche un indiano che picchiava e segregava in casa la moglie Colpo grosso a San Nicolò nel mirino una ditta meccanica, i ladri hanno portato via un furgone con trapani, saldatrici, flessibili e altri utensili per un valore di oltre 20.000 euro Piano contro la crisi, disoccupati nei comuni, la provincia stanza e altri 500.000 euro potranno essere affidati lavori occasionali nei municipi Che emozione il viaggio con i bimbi del Congo, la testimonianza della cooperante di Castel San Giovanni Anna Molinari che ieri ha accompagnato i 31 bambini congolesi dai genitori adottivi Cucina e curiosità con Berlincioni, nuovo programma per l'autore televisivo di Rai e Mediaset debutta domani e andrà in onda tutti i venerdì alle 12.40 su Tele Libertà Conduttore e lo storico Gnassu che entrerà nelle case dei VIP Piacentini per cucinare e farsi raccontare la loro vita Palabanca, ancora senza contratto, lo afferma il presidente onorario della Rebecca Inor Meccanica Antonio Cercello Per ripartire con il mercato ci abbiamo rimesso 300.000 euro Il sindaco Dosi tranquillizza vicini a una soluzione anche per il volley maschile